Cari amiche e cari amici bentornati vi propongo altre due equazioni sui logaritmi vi ricordo che sulla playlist ci sono molti altri video leggiamo la prima logaritmo naturale alla seconda di x uguale 2 più logaritmo naturale di x la seconda equazione è logaritmo in base 5 di x tutto alla terza uguale logaritmo in base 5 di x qui ho usato due scritture diverse ma il significato è lo stesso cioè il primo logaritmo avrei anche potuto scriverlo logaritmo naturale di x tutto alla seconda non cambia niente quindi queste due scritture sono analoghe da non confonderlo invece con logaritmo naturale di x alla seconda in questo caso l'elevamento al quadrato si riferisce solo alla x e da un piccolo suggerimento nel caso volessi svolgerla da sola o da solo bisogna ricorrere a una variabile ausiliaria cioè usare il metodo per sostituzione quindi se vuoi provarci puoi mettere in pausa oppure attendere un attimo e la svolgiamo insieme allora cominciamo con la prima anzitutto dobbiamo porre l'argomento x maggiore di 0 perché queste sono le condizioni di esistenza per i logaritmi quindi se otterremo delle soluzioni minore o uguale a 0 verranno scartate poi introduciamo una variabile t e poniamo il logaritmo naturale di x uguale a t quindi il logaritmo naturale al quadrato di x diventerà t alla seconda il 2 rimane 2 e il logaritmo naturale di x diventa t questa è un'equazione di secondo grado in t che possiamo risolvere facilmente con la formula risolutiva quindi portando tutto a primo membro si ottiene t alla seconda meno t meno 2 uguale a 0 quindi applichiamo la formula risolutiva e abbiamo che t è uguale a meno b quindi meno meno 1 fa più 1 più o meno radice quadrata di meno 1 alla seconda che fa 1 meno 4ac che fa 8 perché meno 4 per meno 2 fa più 8 per 1 sempre 8 1 più 8 è 9 sotto radice 3 quindi 1 più o meno 3 fratto 2a a vale 1 quindi fratto 2 e si ottengono due soluzioni t uguale a 2 e t uguale a meno 1 questa però è la soluzione nella lettera t, nell'incognita t noi dobbiamo ricavare la x e quindi sostituiamo a 2 e meno 1 il logaritmo naturale di x quindi abbiamo per quanto riguarda la prima soluzione logaritmo naturale di x uguale a 2 al posto di 2 scriviamo logaritmo naturale di e alla seconda che è la stessa cosa cioè in generale un qualunque numero a sarà sempre uguale al logaritmo naturale di e elevato ad a dove il logaritmo naturale è un logaritmo in base e o più in generale sarà uguale al logaritmo nella base che vogliamo noi b di b elevato ad a quindi concludendo l'esercizio i due logaritmi li possiamo togliere perché le due espressioni sono uguali solo se hanno gli stessi argomenti e quindi si ottiene x uguale ad e alla seconda che è un numero maggiore di zero soddisfa le condizioni di esistenza e quindi la soluzione è accettabile ti ricordo che e è il numero di nepero un numero irrazionale trascendente e vale circa 2,7 per la seconda soluzione t uguale a meno 1 procediamo allo stesso modo logaritmo naturale di x uguale a meno 1 quindi logaritmo naturale di x uguale al logaritmo naturale di e alla meno 1 togliamo i logaritmi e otteniamo x uguale ad e alla meno 1 anche questo è accettabile attenzione che e alla meno 1 non è un numero negativo perché e alla meno 1 vale 1 su e questo è il significato di potenza a esponente negativo cioè circa 1 fratto 2,7 quindi un numero positivo ok possiamo passare alla seconda equazione logaritmo in base 5 di x alla terza uguale a logaritmo in base 5 di x anche qua le condizioni di esistenza sono x maggiore di zero e si risolve in modo simile all'esercizio precedente cioè ponendo il logaritmo in base 5 di x uguale a t è solo che adesso l'equazione non è di secondo grado ma è di terzo grado quindi può avere fino a tre soluzioni ma non è difficile da risolvere poiché si può usare la legge di annullamento del prodotto portiamo t a primo membro e diventa meno t quindi raccogliamo t e otteniamo che il primo membro è uguale a t per t alla seconda meno 1 ora come dicevo applichiamo la legge di annullamento del prodotto che dice che se il prodotto di due espressioni è uguale a zero allora sicuramente o la prima espressione è uguale a zero o la seconda espressione è uguale a zero o eventualmente anche entrambe ma almeno una delle due deve essere uguale a zero ciò vuol dire che questa equazione si trasforma in due equazioni la prima è t uguale a zero che è praticamente già risolta la seconda è t alla seconda meno 1 uguale a zero che è da risolvere ma non è difficile si ottiene t uguale più o meno 1 e ora non resta che porre il logaritmo in base 5 di x uguale a questi tre valori quindi risolviamo logaritmo in base 5 di x uguale a zero che ha come soluzione x uguale a uno infatti un logaritmo vale zero se è solo se l'argomento è uguale a uno e questo vale per ogni base infatti il logaritmo in una base qualunque b di uno lo posso sempre scrivere come logaritmo in base b di b elevato a zero che fa zero ora risolviamo le altre due equazioni quindi poniamo il logaritmo in base 5 di x uguale a più o meno 1 le posso fare tutte e due insieme perché sono semplici basta scrivere al posto di più o meno 1 logaritmo in base 5 di 5 elevato a più o meno 1 cioè queste sarebbero due equazioni ma le ho trattate insieme quindi mettendo più 1 si ottiene x uguale a 5 che è anche accettabile perché è maggiore di zero e l'altra è x uguale a 5 alla meno 1 cioè x uguale a un quinto che è pur accettabile quindi la nostra equazione ha tre soluzioni 1, 5 e un quinto il video è terminato ma se vuoi cercare altri esercizi di matematica su sverete argomenti puoi consultare le playlist e tutti i link alle playlist le trovi in descrizione a questo video ciao e grazie